e 1 e 2 e 7 e siamo in diretta. Buonasera signori e signori, siamo anche questa sera, in questo venerdì di maggio che sembra quasi primaverile, pronte ad intrattenervi con una bellissima serata in cui parleremo con voi di un argomento molto interessante anche per le insegnanti che ci seguiranno questa sera e che desiderano approfondire l'argomento che di solito si tratta con gli studenti di letteratura e parliamo in particolare questa sera del viaggio in epoca storica ottocentesca e in particolare del viaggio raccontato dall'autore francese Gilles Bern che è il viaggio nel giro del mondo in 80 giorni. Noi conosciamo quest'autore per vari motivi, uno di questi è che è stato uno dei primi a scrivere di fantascienza, infatti questo viaggio raccontato da lui non è un viaggio reale, attenzione, lui non ha raccontato un viaggio sperimentato, ha semplicemente raccolto dei dati e ha immaginato che si potesse compiere questo viaggio in 80 giorni, quindi il suo è stato un azzardo fantascientifico, così come quando ha scritto del sottomarino, quando ha parlato dell'interno della terra popolato da creature che possono ricondursi dei dinosauri. Ecco, ma nel caso di questo giro del mondo in 80 giorni ha scatenato non solo la fantasia ma lo spirito d'avventura di diverse persone e di queste persone noi vi parleremo questa sera, così come dei mezzi di trasporto che sono stati utilizzati e che stavano nascendo proprio in questo periodo. Quindi ora passo la parola alla mia socia Scarlett Douglas Scott che vi racconterà cose che nemmeno potevate immaginare. Avù, madame. Buonasera, buonasera a tutti e tutti i gruppi in cui ho condiviso la diretta e anche sul mio profilo a tutti coloro che stanno seguendo la diretta. Vedo collegata adesso Tiziana, quindi ti saluto, saluterò poi tutti gli altri che man mano si collegheranno. Stasera, mentre Antonia vi parlerà di personaggi, di cose, di avventure straordinarie che girano tutte intorno al libro di Jules Verde, io vi racconterò invece la storia di quel pazzo furioso avventuriero che è stato George Francis Strain, ossia la persona a cui Jules Verde si è ispirato per raccontare il suo viaggio nel mondo, il suo giro del mondo in 80 giorni, perché Phyllis Fogg è realmente esistito ed era molto più pazzo di quello raccontato nel libro. In realtà era considerato pazzo dai suoi conterrani, era un americano, ma era considerato pazzo perché era un avventuriero e ve ne racconterò tra poco di questo straordinario avventuriero che abbia a che fare anche con Nelly Bly, con le attiviste che lottavano per i diritti politici delle donne in America, che incontrò anche il granduca Costantino Romanoff, qui figlio, primo figlio di Nicola I, insomma un personaggio straordinario, ha fatto il giro del mondo ma non faceva semplicemente il giro del mondo turistico come fece Phyllis Fogg, ma un giro del mondo costruttivo, lui costruiva birari, costruiva il modo per viaggiare, quindi dopo questa piccola anticipazione saluto anche Chiara, Paola e Anna che si sono collegate in questo momento e rimbalzo la parola ad Antonia che inizierà a raccontarvi di personaggi straordinari esattamente come Train. Allora, innanzitutto facciamo un piccolo passo indietro perché noi lo diamo per scontato ma c'è una cosa a monte di tutto questo viaggiare, 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 che bello viaggiare. Chi partecipa al gruppo Origins in Victorian avrà visto in questi giorni che abbiamo postato alcune cartine che sono molto chiarificatrici del problema del viaggio in treno perché viaggiare in treno così come lo è stato prima, viaggiare in carrozza, presuppone un piccolo particolare cioè la presenza del chemin de fer, i francesi già erano molto chiari quando si spiegavano il cammino di ferro sarebbe il binario, quindi prima di avere un treno che cammina dobbiamo avere la ferrovia che ci passa sopra e se voi avete visto quelle vecchie, ormai sono tutte vecchie serie, ahimè. Una volta c'era vecchia la casa nella prateria, adesso quella è vecchia vecchia, adesso vecchia c'è la signora del West che per me ai tempi era nuova, quindi quando arrivava la ferrovia i paesini entravano tutti in uno stato di fermento. Oddio cosa succederà? perché quando passava la ferrovia lo stato sociale vitale dei paesini cambiava radicalmente, dove arrivava la ferrovia c'erano cambiamenti radicali, o il paese moriva o il paese diventava una città, quindi era importantissimo che questi binari venissero a passare e cambiassero la storia delle località in cui passavano. Dove c'era la ferrovia cambiava completamente il panorama, quindi non era soltanto un tratto di ferro che passava, ma era un tratto che obbligava chi abitava da quelle parti a fare delle scelte. Alcune città scomparivano, diventavano città fantasma, per esempio pensate alle città americane che erano state per decenni sulla tratta della carrozza postale, arrivava la ferrovia a due chilometri più in là, quelle che diventavano città fantasma e nasceva il paese due chilometri dopo e tutto cambiava, cambiavano i padroni, cambiavano le zone ricche, diventavano povere, i ricchi diventavano poveri, i poveri ricchi, quindi erano veramente le ferrovie non soltanto delle tratte stradali nuove, ma erano degli innovatori, bastavano questi due binari di ferro con in mezzo dei legni che le tenevano costantemente vicine e tutto cambiava intorno a loro, quindi non era così scontato il passaggio della ferrovia e chi si occupava di scegliere dove farla passare era una persona che aveva in mano il potere di cambiare le sorti non solo delle persone ma addirittura delle nazioni, quindi immaginatevi, noi abbiamo visto la cartina dell'Inghilterra, i primi tratti ferroviari erano quelli dove si lavorava, quindi meramente trasporto merci e trasporto lavoratori in brevissimo tempo nell'arco dell'epoca vittoriana tutta l'Inghilterra, esclusa la Scozia, era diventata una ragnatela di ferrovie, quindi c'è stata una chiara scelta gli scozzesi volevano starsene tranquilli a loro della regina, del re, non gliene poteva fregare di meno, a loro piaceva lanciare il tronco e non andiamo a rimangare quel magnifico tronco che abbiamo già visto, lo so che voi lo volete rivedere ma non ve lo facciamo rivedere. Detto questo io ho fatto questa piccola premessa perché appunto di chi portava avanti queste ferrovie e sceglieva dove farle passare, vi parlerà madame. Allora ragazze, chi era questo George Francis? Perché noi diciamo sempre ragazze ma non è che ci sono 4-5 uomini con la barba qua che ci seguono? No, se ci sono non si fanno vedere, è questa cosa che mi perplette tanto, avrei piacere che ci fosse anche qualche uomo collegato ma secondo me hanno paura e quindi o non si mostrano o seguono la diretta senza mostrarsi o fanno finta di non esserci, ci sono ma non si fanno vedere. Che lanciano i tronchi, esatto, che lanciano i tronchi, secondo me hanno paura. Comunque vi racconto la storia di questo tipo stranissimo che in realtà strano non era, era un uomo dei suoi tempi che nacque nel 1829 quindi appena si può dire epoca georgiana quindi non eravamo ancora in epoca vittoriana ma eravamo ancora in epoca georgiana. Nasce in America, era un imprenditore statunitense e divenne famosa per aver realizzato la linea di navi clipper che collegava Cape Horn a San Francisco. Quindi già partiamo già comprendendo che tipo di persona era. Era un costruttore, era un meccanico, una persona che amava costruire e progettare. Tanto più che nel 1864 organizzò anche la Union Pacific Railroad e il credito mobilier negli Stati Uniti per costruire la parte orientale della Transcontinental Railroad e una compagnia di tram in Inghilterra durante la guerra civile americana. Perché durante la guerra civile americana lui cosa fece? Come diciamo noi a Piacenza, te l'ho, scappò dalla guerra e si rifugiò in Inghilterra. Ma anche lì non se ne state tranquillo perché non era un uomo da tranquillità. Lui se si spostava si spostava per costruire. Lui aveva sempre qualche cosa da trafficare. Ve ne parlo tra un attimo. Vi racconto in linea generale prima per cosa è conosciuto. Quindi vi faccio un piccolo riassunto e poi vi racconterò punto per punto tutto quello che accade nella sua vita. Quindi nel 1864 si trasferì in Inghilterra appunto per incominciare a costruire le linee di tram. Nel 1870 fece il primo dei tre viaggi che venne pubblicizzato in tutto il mondo e si crede che il risoconto del suo primo viaggio fu pubblicato da un periodico francese, quindi da un giornale francese e abbia ispirato il romanzo di Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni, che ebbe come protagonista Phileas Fogg. E questo Phileas Fogg era appunto una sorta di caricatura di questo train. Nel 1872 fu candidato alla presidenza degli Stati Uniti e nel stesso anno fu incarcerato con le accuse di oscenità mentre difendeva Vittoria Woodall dalle accuse riguardanti un rapporto che il suo giornale aveva pubblicato su una presunta relazione adultera. Chi era questa Vittoria Clefie Woodall? Era un attivista statunitense che lottava per i diritti femminili e anche la prima donna candidata alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America, motivo per cui i giornali gettarono discredito su di lei e lui venne appunto incarcerato con queste accuse di oscenità mentre tentava appunto di difendere Vittoria Woodall. Questo è il tipo di persona con cui inizieremo la nostra serata, quindi partiamo già effettivamente da un avventuriero. A me ricorda tantissimo Red Butler di Rossello e di Rossello Ara, di Via Colvento, ossia uno di quelle persone, Red Butler era capitano di una nave e il suo lavoro durante la guerra di secessione era forzare il blocco per portare appunto i viveri negli Stati Sudisti. Quindi io me lo immagino come Red Butler, ho di fronte proprio lui anche se in realtà era leggermente diverso, anche se se ricercate le sue foto, era comunque esattamente come tutti gli uomini dell'epoca, un uomo molto distinto con la bombetta e la tuba e i baffetti, il pizzetto e le basette, erano tutti uguali quindi era anche un po' difficile riuscire a distinguere. Da Sparviero. Da Sparviero, da Red Butler. Quindi immaginatevi un Red Butler molto avventuroso che attraversava continuamente l'Atlantico da America a Inghilterra sempre con questi progetti in mano per costruire le ferrovie. Parlando appunto della sua prima progettazione, prima di tutto lui non aveva tanta fortuna nella vita, i suoi genitori morirono per un'epidemia di febbre gialla, genitori e tre sorelle, si salvò solamente lui, quindi abbiamo già parlato della febbre gialla, sapete che era appunto una di quelle malattie pandemiche che giravano nell'epoca. Venne allevato dai nonni metodisti a Boston che speravano di trasformarlo in un ministro, quindi avevano delle elevate aspettative sul loro nipotino che in realtà lui non attese per nulla. Perché? Lui semplicemente frequentò le scuole comuni, quindi non andò a frequentare scuole private e tutto quanto e aveva affinato le sue abilità in ingegneria, quindi ingegneria meccanica. Lui aveva proprio la passione per l'ingegneria meccanica e l'aveva affinata giocando con i blocchi e i bastoncini giocattolo. Quindi ragazzi, signore mia, se avete dei figli che giocano con i bastoncini sappiate che da grandi costruiranno treni. L'ego non va bene. Ecco, è il vostro destino. L'ego non va bene. Sì, anche l'ego, sì sì. Adesso noi abbiamo il Lego, all'epoca c'erano i bastoncini, va bene anche il Lego. Da dove incominciò la sua avventura con il tram? Incominciò proprio a scuola, perché a scuola aveva un amico inglese emigrato dall'Inghilterra in America e che gli raccontava quanto fosse complicato muoversi nella sua città che era Birkenad e qui lui iniziò ad avere le prime ispirazioni. Ma in Inghilterra ci arrivò più grande naturalmente dopo, però lui già stava pensando questa idea del tram come modo per spostarsi all'interno di una città. Quindi, uno dei suoi primi progetti era quello di entrare in un commercio mercantile. Quindi, come vi ho detto prima, progettava i clipper, i navi che facevano la scuola attraverso il Pacifico. Fece carriera soprattutto negli Stati Uniti e in l'Australia, tanto più che anche là tentò una carriera politica che in realtà poi non funzionò. E nel 1860 si stabilì in Inghilterra per fondare le compagnie di tram a Birkenad e a Londra, dove incontrò l'opposizione delle istituzioni e dei cittadini. Perché? Ve lo racconto tra un attimo. Perché nel frattempo vi dico anche che fu coinvolto anche nella costruzione di una tramvia, che durò poco, a Cork in Irlanda. E adesso vi dico perché non funzionò il suo progetto. E qui comincerete a ridere. Praticamente non funzionò perché lui costruiva i binari sopra l'asfalto. Costruiva i binari sopra l'asfalto, appoggiava i binari sopra le strade. Quindi i binari non erano incassati ma erano sopra elevati sulla strada. Li fissava sopra l'asfalto, non esisteva ancora l'asfalto diciamo sopra l'astricato delle strade. E quindi praticamente fu nel 1861 fu processato, arrestato e processato per aver rotto e ferito Axford Road a Londra. E dopo esserne uscito, non si sa come, provò di nuovo con Darlington Street Railroad, sempre a Londra, nel 1862 ma fu di breve durata e venne chiuso nel 1865. Quindi fu per forza costretto a ritornarsene in America dove fu coinvolto poi nella costruzione della Union Pacific Railroad, quella la famosa ferrovia che poi attraversò tutti gli Stati Uniti fino alla frontiera, fino a San Francisco. Ma di quello che combinò dopo ve lo racconto tra poco. Io sono imbalzo la parola ad Antonia che va avanti a raccontarvi delle belle esperienze di costruzione ferroviarie. Allora, qua dobbiamo capire che del mondo di cui vi parliamo, parliamo di un mondo in cui ci sono delle persone un po' recalcitranti a guardare al futuro, no? È un po' come se arrivassero da noi e vi dicessero nuova pubblicità, la macchina del futuro vola e voi volerete soprattutto tutte le altre auto e potrete portare i bambini a scuola direttamente posandoli sul tetto. La comprareste voi la macchina? No. Pensare di lanciare i vostri figli sul tetto della scuola non lo fareste mai. No. I vittoriani erano esattamente così, quindi quando gli dicevano c'è una grande novità, potete andare a una grandissima velocità, 50 chilometri all'ora. No, no, io vado col mio cavallo, ma scherziamo? Quindi quando hanno trovato il sistema di asfaltare le strade, lo hanno fatto i francesi? E se una cosa la fanno i francesi, capite? Sono i francesi. Sì. E allora i francesi hanno asfaltato un pezzettino di strada così, prima di farlo gli inglesi hanno cercato di capire bene, primo, se l'asfalto si mangiava i piedi dei francesi e ci hanno sperato molto che lo facesse, che li corrodesse, non so, che facesse venire qualche brutta malattia tipo le palme, i piedi. Poi quando hanno visto che i francesi ci andavano su d'estate e d'inverno che erano ottimi, che non affondavano, che i cavalli non perdevano gli zoccoli, allora hanno cominciato anche loro ad affrontare questo problema. Immaginatevi questo qua che arriva e buca l'asfalto che hanno appena messo, convinti che finalmente non fa male e purtroppo non ha ucciso i francesi e questo glielo taglia e glielo rompe, ma gli avrebbero spaccato la faccia. Dico, fallo prima, fallo dai francesi sto buco, no? Dai francesi, esatto. E quindi non andava bene sta cosa e per forza se ne è dovuto andare. Bisogna entrare in questa mentalità per capire che cosa succede quando arriva uno e ti rompe la strada. È un po' come quel povero vecchietto che aveva una buca enorme davanti a casa e ha chiesto una volta, ha chiesto due, aggiustatela, aggiustatela, alla fine, esasperato, è sceso giù con un po' di cemento, ha chiuso lui e gli ha dato la multa. Perché questa è l'Italia, non puoi chiuderti la buca da solo, anche se è lì da cento anni, non puoi chiudertela da solo, devi tenerla lì. E lo stesso è successo a questo povero uomo. Quindi dobbiamo sempre riuscire ad entrare nella mentalità storica. L'innovazione è difficile che entri se non passa per il buco della serratura giusto. e lui ha sbagliato, ha sbagliato, non doveva rompergli l'asfalto. Era già troppo... Lotto e ferito, è ferito, cioè questa cosa emotiva che... Esatto. Questa cosa emotiva proprio, non solo l'otto, ferito, cioè stiamo parlando di un buco considerato vivo. Sì, perché è tenerino, è tenerino l'asfalto. Lo hanno appena adottato. E poi fa una cosa tremenda, come tagliarlo, no? Basta, vattene a casa tua, tornatene in America, brutto buzzurro. Ma poi il rapporto tra un americano e un inglese è quanto di più difficile, perché gli americani per un sacco di tempo sono stati chiamati le ex coloni e qualunque cosa facevano di brutto era considerato deplorevole. cioè non c'è olio e acqua, come diceva nel film, come si chiama, quello natalizio dove si scambiano le case, Drew Barrymore e... Sì, sì, è vero. Bucco rotondo, bastone quadrato. Sì. Questi sono gli inglesi e gli americani, quindi non si potranno capire mai. Esatto. C'è proprio un'incompatibilità mentale. Sì, sì. Perché ci sono offese, ataviche, che non si possono sanare. No. Parlano anche due dialetti diversi. Gli inglesi parlano in un modo e gli americani parlano in un altro, dello stesso, della stessa lingua. Quando anche si capissero, fanno finta di non capirsi. Eh, certo. E poi è la stessa cosa che fanno, se vai in Liguria, tra di loro parlano in dialetto stretto proprio per mettere a disagio il... non li chiamano neanche i turisti, sono gli invasori. Oh, addirittura. Sì, sì, il turista non è amato in Liguria. No. Chiunque qui, se c'è la Tiziana, noi che andiamo in Liguria non siamo turisti, siamo disturbatori, perché togliamo spazio a loro. Certo. Ce n'è poco. Ce n'è poco. Tiziana, guarda la risposta di Tiziana. Tiziana, è verissimo. E lo so perché sono stata diverse volte da un'amica Ligure e hanno anche un nome con cui ci vengono a denominare e non è un nome carino. Ok. Va bene. Ecco. Va bene. Adesso sappiamo. Tornando a parlare dei nostri viaggi. Allora, mi sono persa, continuano ad arrivare questi avvisi critici di un... Domani ci guarderò. Sì, di un temporalone che deve arrivare forse. Non ci arriverà mai, lo sappiamo. No. Va bene. Allora, lascia a te la parola perché poi quando parlerò, parlerò di signore. Avrò un argomento sulle signore abbastanza complesso. E quindi adesso torni pure a parlare delle... Ok. Ok. Allora, ritorno a parlarvi del nostro amico Train, che come diceva Antonia, omen omen, ecco, si vede che probabilmente ce l'aveva un po' come karma. E come vi dicevo, fu coinvolto nella formazione della Union Pacific Railroad, ossia quella ferrovia che attraversò dall'Atlantico al Pacifico tutti gli Stati Uniti. E in poche parole unì gli Stati Uniti sulla pista della corsa all'oro. Quindi quando arrivava la ferrovia era perché si sapeva che sarebbe arrivato ulteriore commercio e tutto questo commercio lo stava facendo appunto la corsa all'oro. Se volete, anzi, faccio un piccolo... Apro una piccola parentesi che non c'entra niente con l'Inghilterra, ma se volete avere uno strancio veloce di corsa all'oro, andatevi a vedere C'era una volta l'Ouest, che ho visto recentemente, è un film abbastanza tosto, ma racconta appunto di come i coloni americani riuscirono a trasformare il loro karma, stasera parliamo di karma, che era quello di colonia penale, perché appunto l'America inglese è nata come colonia penale, quindi era per quello che gli inglesi non vedevano bene gli americani, perché erano comunque delinquenti quelli che andavano là e donne perdute. Sono riusciti a riscattare il loro destino, creandosi veramente una rivalsa grazie alla corsa all'oro, grazie comunque ai commerci che viaggiavano sulle ferrovie. Di fatto la Union Pacific Railroad diede la possibilità di unire il Giappone, la Cina, con la costa del Pacifico americana, quindi con la California e a estendere il proprio commercio. Non per niente sulle ferrovie lavoravano anche i cinesi, cinesi, messicani, soprattutto cinesi, messicani, povera gente, irlandesi e inglesi avventurieri, perché poi l'oro attirava sempre comunque avventurieri, quindi non c'erano solamente gli americani. Gli americani erano quelli che ci mettevano i soldi in realtà, ma sulle ferrovie lavoravano i poveracci che arrivavano da tutti questi soldi che vi ho nominato con appunto la speranza di poter crearsi un futuro nelle città che sarebbero sorti intorno alla ferrovia. Train, tra l'altro, è stato coinvolto anche nella creazione della società finanziaria Ombra per il progetto di credit immobilier of America, i cui ufficiali principali erano gli stessi di UP. Nel 1864 lasciò gli Stati Uniti di nuovo per l'Inghilterra e riferendosi a se stesso diceva di essere citizen train, ossia cittadino train, quindi lui viaggiava per il mondo, si sentiva cittadino del mondo, lui non si sentiva particolarmente americano. Gli venne un magnato delle spedizioni, uno scrittore prolifico, scrisse diversi libri, un candidato alla presidenza minore dopo il ritorno negli Stati Uniti e un confudente di rivoluzionari francesi e australiani. Quindi era veramente un avventuriero a tutti gli effetti. E tra l'altro, come vi dicevo, gli venne anche offerto una proposta di presidenza per la Repubblica Australiana, ma la rifiutò. Durante la guerra civile americana ha tenuto diversi discorsi in Inghilterra a favore dell'Unione e denunciando la Confederazione. Quindi lui, come vi ho detto prima, era scappato, era in Inghilterra e teneva discorsi a favore dell'Unione, giustamente contro la Confederazione, che era quella che sosteneva ancora lo schiavismo. Fu arrestato, di nuovo direte, esatto, di nuovo. Comunque, scusa, mi sembra che la sua posizione sia un tantinino di parte. No! Perché un chilo di ferro pesa più o meno di un chilo di cotone? Eh, esatto, è una bella domanda. Penso che questa domanda se la fosse posta pure lui, che vedeva la fine dell'impero del cotone. Scusate, penso che il mio cane stia per buttarsi giù dal balcone e nessuno lo sta fermando. Un secondo solo. Sì, intanto vado a parlare di train. Quindi, intanto che va a vedere cosa succede al cane, finisco di raccontarvi questa cosa. Appunto, denunciava la Confederazione. Fu di nuovo arrestato nel 1868, mentre era a bordo della RMS Scozia, nel porto di Queenston, a Cobb, in Irlanda. E tenuto in custodia. Questo perché gli fu trovato nel suo bagaglio un fascicolo di documenti contenenti molti discorsi che aveva tenuto negli Stati Uniti in difesa della causa feniana per l'indipendenza irlandese. Quindi, oltre a fare discorsi contro la Confederazione degli Stati del Sud, faceva anche discorsi in America per sostenere la causa irlandese contro l'Inghilterra e giustamente venne arrestato un'ennesima volta nel 1868. Tutto per riuscire ad avere le sbarre che erano di terra. Ecco, naturalmente tutti i documenti vennero sequestrati e venne liberato dopo quattro giorni, ma la condizione fu che avesse negato qualsiasi intenzione di promuovere di nuovo il fenianismo mentre si trovava in Irlanda o in Inghilterra. Nel mezzo della sua, di tutto questo casino tra guerre, discorsi, arresti e altre cose, e quindi nel mezzo della sua campagna per la presidenza nel 1870, decise di fare il famoso giro intorno al mondo e fu coperto da molti giornali perché era veramente un'impresa straordinaria per l'epoca, non era effettivamente stato ancora conteggiato bene quanto tempo ci volesse. Lui sosteneva che il viaggio potesse essere fatto in 80 giorni. Il viaggio effettivo è durato 80 giorni, ma lui in realtà rimase due mesi in Francia, sostenendo la comune di Parigi per la quale ha trascorso due settimane in prigione. Di nuovo! Ma non ce la poteva fare, ma proprio non ce la poteva fare lui. E quindi, per tirarlo fuori di galera in Francia, intervennero gli Stati Uniti e Alexandre Dumas, quindi lo scrittore Alexandre Dumas, intervennero per tirarlo fuori da lì. E le sue imprese probabilmente hanno ispirato i romanzi di Jules Verne, Around the World, in 80 Days, Giro del Mondo in 80 giorni, con il personaggio, il figlio di S. Fogg, che probabilmente è stato in parte modellato su di lui. Mentre era in Europa, conobbe, come vi dicevo prima, il granduca Costantino, figlio dello zar Nicola I, riuscì a convincere, a persuadere la regina di Spagna a sostenere la costruzione di una ferrovia nei boschi della Pelsinvenia, quindi praticamente con i soldi spagnoli, in Pelsinvenia, che era in America, a costruire una ferrovia. Diciamo che questa regina forse non sapeva la geografia. Ecco, però, l'ha convinse. Non c'era tutta con la terra. E me ne frega lei. Eppure, eppure sborsò i soldi. Il suo sostegno, tra l'altro, ha fornito finanziamenti per l'Atlantico e la Great Western Railroad, quindi, cioè, praticamente la regina di Spagna finanziò parte anche di queste, di queste costruzioni. E poi, finalmente, è riuscito a promuovere e a costruire tram in Gran Bretagna, però a una condizione, dopo aver accettato di abbassare il livello delle rotaie, a livello delle strade. Ta-da! A sorpresa! Inventarono le, i binari, i cassati dentro nella strada. Così, finalmente, l'Inghilterra ebbe i suoi tram. Ecco. Ecco. E non è ancora finita. Da qui, diciamo, che inizia... Doveva qualche giorni andare ad accarezzare la strada e a chiederle se stava bene? Scusa. Da qui, praticamente, la sua popolarità salì alle stelle. Lui divenne, oltre il viaggio intorno al mondo, che lo rese famosissimo. La costruzione dei tram, che poi si diffuse in tutto il mondo, ci sono ancora molte nazioni che hanno il tram come mezzo di trasporto. A Piacenza lo abbiamo avuto per un periodo di tempo. Ma tutte le cose belle a Piacenza non durano mai. E poi, subito dopo la guerra, venne smontato tutto, venne tolto tutto. Anche le linee ferroviarie. Infatti, noi, l'unica linea ferroviaria che abbiamo passa sulla linea della Via Emilia, quindi sulla linea del Po, e basta. Cosa che aveva stupito Adriana quando venne a abitare dalle nostre parti, quando venne a abitare la stradella, diceva, ma voi non avete tre. No. Noi... È stato smontato tutto. Penso negli anni 60-70. Però ci hanno fatto studiare per anni, a Piacenza, un importante nodo ferroviario. Esatto. Sì, Piacenza. È una biografia che si ricordava per sempre. Sì, sì. Solo Piacenza, però il resto della provincia è completamente segato fuori, noi abbiamo le corriere. Basta. Pensate che perfino dove abito io, che abito in un paesino di 500 anime, passava la linea del tram. e una delle vie principali, parliamo un po' di Piacenza perché di Piacenza, che è la Statale 45, ha ancora dei paesi che riportano il nome delle stazioni di sosta, come Quarto, Settima, e sono appunto risalenti alle stazioni ferroviarie, che erano delle piccole stazioni ferroviarie, molto piccole, quindi non erano niente di straordinario, che però univano la pianura con la collina e molti addirittura svalicavano, andavano in Liguria. Ed erano addirittura i nomi delle strade romane. Eh, avevano sì, avevano un'architura con i nomi delle strade romane. Ad Lapidem romana. Eh, esatto. Perché qua si incrociavano la Salaria con la Francigena, quindi eravamo il centro di diverse incroci di strade romane. E poi nel Medioevo siamo piano piano andati in disuso, addirittura avevamo la famosa Beleia romana, che era, perché poi appunto con una frana purtroppo è andata distrutta e non fu ricostruita, che era un centro importantissimo, tant'è vero che aveva addirittura le sue terme, il suo teatro, ed era un centro importante per l'economia della valle. Infatti c'era la famosa tavola traiana, che era una tavola su cui erano riportati i vari prezzi, un calmiere in pratica, e ci sono tantissimi altri reperti di ogni genere. Se volete venirci a trovare noi a pagamento siamo disponibili a farvi fare tutti i giri che volete, vi possiamo portare in tutta la provincia, ci vestiamo anche con abiti storici, che volete voi, i prezzi non sono modici, perché ovviamente noi siamo esperti, siamo carissime, siamo buone e care, buone, brave e care, però vi facciamo mangiare un sacco bene. Eh sì, esatto. Fateci davanti. Scusami, mi è scattata questa cosa turistica. Va benissimo, va benissimo. Tanto me le hanno aperto un bar, che è aperto tutti i giorni, quindi proprio dentro nello scavo è stato aperto un piccolo barretto per i turisti, quindi se volete andare è aperto anche alla sera, quindi ve ne vi aspetta. Noi vi aspettiamo, noi siamo un po' genovesi, perché noi discendiamo dai Liguri, noi piacentini discendiamo dai Liguri, siamo un po' genovesi nel senso che non abbiamo per niente i turisti, ma vogliamo i vostri soldi, quindi veniteci a trovare. La sintesi è questa. La cosa è bella, l'ho detto io che esco da casa solo per andare a fare la spesa, perché ho qualche problema di agorafobia, quindi... Sì, ma è un problema comune a Piacenza, noi proprio non amiamo i turisti, piace starcene per conto nostro, non ci supportiamo neanche tra vicini, però ci fa piacere, a noi piacerebbe che voi prenotaste a Piacenza le vostre vacanze, che però non ci veniste, l'importante è prenotare, alberghi, ristoranti, tutto, però non venite, cioè, prenotate, lasciateci i soldi, ma andate in vacanza da un'altra parte. Ma in realtà è perché non siamo proprio abituati ai turisti, quando vediamo i gruppi di turisti, li guardiamo più o meno così. Eh sì, sì, siamo ancora un turista. E questo, secondo me, sai perché? Perché ci hanno tolto i treni, se ci lasciavano i treni, saremmo diarti anche noi cittadini del mondo, invece ci hanno lasciato le corriere, tutto il trasporto su gomma, e noi ci siamo persi in questi meandri di... Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Siamo molto stanche, è come se fossimo due studentesse alla fine dell'anno. Sì, più o meno sì. Niente, il signor Train, dopo aver tentato diverse volte la carriera politica, come vi dicevo, è stato incarcerato nel 1872 per aver sostenuto, difeso Vittoria Woodall, la sostenitrice dei diritti per le donne. Tra l'altro fu anche un finanziatore, del quotidiano The Revolution dedicato ai diritti delle donne che è pubblicato, è stato pubblicato poi da Susan Anthony Elizabeth K. di Stetton. Quindi lui sosteneva il futuro, sosteneva l'innovazione, era un tipo sveglio, non era un retrogrado, era una persona, cioè non era un conservatore, lui puntava appunto al futuro dell'America. Però con l'avanzare dell'età, se all'inizio le sue attività venivano considerate rivoluzionarie, dopo un po' divenne sempre più eccentrico e incominciò a essere considerato un po' fuori di testa. Nel 1873 fu di nuovo arrestato e minacciato di essere mandato in manicomio, perché sosteneva di voler diventare il dittatore degli Stati Uniti, finanziandosi, vendendo i biglietti d'ingresso ai raduni che tiravano un vasto pubblico. divenne vegetariano e adottò tante mode. Invece di stringere la mano alle persone, usava stringere la mano a se stesso in modo di salutare che aveva visto applicare in Cina. Praticamente trascorse molti giorni sulle panchine del Madison Square Park a New York, distribuendo monettine ai passanti e rifiutando di parlare con chiunque tranne che con bambini e animali. Nel 1890 finalmente incontrò Nelly Bly perché si incontrarono le loro vite, perché Nelly Bly nel 1890 fece il suo viaggio intorno al mondo di 72 giorni e quindi instigò Train a fare una seconda circunnavigazione della Terra sempre nello stesso anno. E lui partendo da Tacoma nello stato di Washington e ritorno fece il viaggio in 67 giorni, 12 ore e un minuto e fu un record mondiale. Tra l'altro a Tacoma c'è ancora una targa commemorativa nel punto in cui iniziò e terminò il suo viaggio nel 1890 e fu accompagnato per molto tempo nei suoi viaggi da George Pickering Bemis che era suo cugino e segretario privato. In seguito Bemis fu anche eletto sindaco di Omaha nell'Ebraska. Nel 1892 la città di Whatcom è sempre nello stato di Washington si offrì di finanziare un altro viaggio intorno al mondo quindi il terzo viaggio che Train terminò nei 60 giorni di record. La sua follia da viaggiatore, da rivoluzionario, costruttore, ingegnere terminò nel 1904. Lui si ammalò di Vaiolo nel 1903. Nel 1904, il 5 gennaio, morì per insufficienza cardiaca. Probabilmente il Vaiolo aveva comunque debilitato il suo fisico e morì povero in un alloggio economico chiamato Mills Hotel. Un po' alla fine che fece anche Tesla. Dopo la sua morte, il Thurten Club, di cui era membro, vi ricordate che anche Phileas Fogg era membro di un club dove si scatenò la scommessa che fece poi partire il viaggio. Lui era socio del Thurten Club, approvò che era uno degli uomini, dei pochi uomini, sani di mente, in un mondo completamente pazzo. Quindi fu davvero un elogio quello che fecero al loro sostenitore, sullo socio sostenitore, a questo avventuriero che veramente cambiò, rivoluzionò anche con le sue invenzioni, con la sua meccanica, anche il nostro modo di viaggiare. Se abbiamo il tram dobbiamo ringraziare lui, la sua perspicacia, la sua tenacia nel voler realizzare finalmente le ferrovie per i tram, incassate però nella strada. Ma ringraziamolo perché sono incassate, perché altrimenti continueremo a inciampare. Esatto. Perché sono in mezzo alle strade, quindi è importante il fatto che siano incassate, perché le ferrovie dei treni sono a parte, quelle dei tram sono nelle strade. Sono nelle strade, sì. È stata un'illuminazione questa. Sì. Quindi mi stupisce solo che non abbia cercato di cambiare nome verso la fine della sua vita in Airplane. sicuramente non ci arrivò. Lui probabilmente aveva più la passione per i viaggi di terra. Infatti nella sua storia che ho letto non si parla di viaggi aerei, di viaggi nell'aria. Non era spinto verso l'alto, ma verso questo viaggio orizzontale. Quindi questo voler semplificare la vita è proprio da quello che probabilmente nacque con l'amicizia di questo suo compagno di classe, semplificare la vita delle persone normali, quindi non fare cose straordinarie, ma semplificare la vita di tutti i giorni. Un tram ti dà la possibilità di attraversare la tua città come adesso la metropolitana per noi che si muove nello stesso modo, comunque è un tram sotterraneo, elettrico tra l'altro, perché quindi c'era già anche nella sua testa la coscienza ecologica, si muoveva tutto elettrico, il tram, non era a vapore come il freno, quindi era già una coscienza ecologica la sua e tuttora si stava pensando anche anni fa di ripristinare il tram a Piacenza nel nostro fossato, per esempio, di costruire una sorta di linea di tram che circunnavigasse Piacenza, ma naturalmente questa cosa è fallita, perché spendere i soldi per una cosa, e ripristinare il tram a Piacenza è impossibile che abbiamo vie molto strette, quindi c'era l'antolto, perché per l'impossibilità di un tram di attraversare noi abbiamo una città all'impianto militare romano, ma nelle altre città ancora adesso il tram, le città più grandi che hanno la possibilità di avere vie molto più grandi, io l'ho preso per esempio a Firenze il tram è su una corsia fiancheggiata da un giardino, cioè c'è un prato che francheggia il tram, cioè stiamo parlando di un modo di vivere molto più leggero, molto più ecologico, e magari tutto il mondo si potesse muovere e vivere attraverso un tram, io sosterrei questa cosa, la soffocata, soffocata, soffocante, purtroppo non abbiamo strade alternative. Non abbiamo strade alternative. Ecco, niente, io vi ho raccontato un po' questa storia, so che Antonia vi deve raccontare le ultime novità del gruppo, perché è uscita, è uscita, è uscita una nuova rivista, una nuova rivista che non vi potevate aspettare, bravi, bravi, non ve l'aspettavi, e... ti fanno bene gli psicofarmaci. No, sono molto importante. In realtà dovevo raccontarvi un po' di donne esploratrici, ma prima faccio questa piccola pausa per voi, perché è molto importante, al punto che prima di tutto devo fare una cosa, devo togliere lo sfondo virtuale, tornare, vedete la pubblicità anche della Folletto, arrivo a fare, ma è una cosa terrificante, ma come si può fare una cosa del genere nascondiamo la Folletto. No, no, è bello da vedere anche. Sì, vi farò vedere. Delinquio! Oddio! Allora, questo è un formato cartaceo che non, purtroppo, non abbiamo ancora avuto modo di mettere a disposizione di voi lettori, e abbiamo avuto grossi problemi, Amazon ce le ha messe tutte, per non permetterci di pubblicare il cartaceo, perché purtroppo i dialoghi vengono molto molto piccoli e non ci permette di fare la cosa responsive, quindi stiamo studiando per darvi il cartaceo per la seconda puntata di questa meraviglia. Allora, Delinquio si tratta di una rivista, un mensile di fotoromanzi, rigenzi e frivolezze. Questa opera è stata, non posso dire, ideata, perché non si parla di idee, ma proprio di deliri in questo caso, e questo che vedete è una delle protagoniste dei fotoromanzi e nel fotoromanzo potrete leggere delle meraviglie, potrete vedere la storia utilizzato l'intelligenza artificiale per parlare di un personaggio in cui l'intelligenza è opzionale, conoscerete i segreti di Ambrose, l'uomo che deve chiedere la colazione ma non riesce ad averla. fantastico. È bello, 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 bello. Sì, molto bello, è veramente molto, molto bello. Ma ha un problema, non ha soldi e deve farsi mantenere, in qualche modo deve riuscire ad arrivare alla colazione e riuscirà in questa pregevole fotoromanzo a ottenere questa colazione, lo soprirete leggendo colazione e pregiudizio. In ogni numero avrete una puntata intera di colazione e pregiudizio, ma il mistero è sempre più vasto perché i personaggi si intrecciano in questa storia in cui Ambrose cerca di mangiare, ma la fanciulla che qui vedete, ora ve la mostro, credo purtroppo che tutta l'attenzione di Ambrose non sia per i tramezzini al crescione, bensì per lei e quindi lo attira, lo schiaccia, lo trascina, lontano dal crescione. Mamma mia. L'arrivo del giovane vicario con grandi segreti rende la situazione sempre più piccante, mentre lei non so se notate è molto vicina alla colazione. Ecco. Allora cari, questo è solo una parte di quello che potete trovare in questo volume perché come vi diciamo è una rivista a tutto tondo per le signore Regency che non devono chiedere mai. Avrete infatti una quantità interessante di rubriche avete qualche problema di cuore non sapete che cosa fare col vostro amore chiedete al giovane vicario e vi risponderà. Lui è pronto a guardare dentro il vostro animo e a rispondere ai quesiti più teneri del vostro cuore e quasi sicuramente vi suggerirà il giusto sermone di Fordeis da leggere per il vostro problema. In questo numero in particolare abbiamo un'intervista imperdibile la nostra Mary Shelley che purtroppo avendo avuto qualche piccolo problema matrimoniale non è più molto ben vista in società deve lavorare lavora per noi e quindi ha intervistato Jane Austen oh mio dio volete sapere è uno scoop inimmaginabile sapere che cosa vuol fare Jane Austen nel suo futuro ma avrà un futuro non lo sappiamo volete saperlo e questa è la chiave ecco va bene vi faccio solo vedere una cosa vedete questo mio bello 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 che cosa avrà a che fare con Jane ma bisogna andare a leggerlo sarà interessante sapere che cosa farà Jane Austen con questo meno sarà un personaggio o sarà un amichetto avrete le ricette direttamente da Serle la regina dell'uovo quella che come lo fa lei non lo fa nessuno parola di Mr. Vodaus ecco poi ovviamente avremo una parte che parlerà della moda per la primavera belle col cappello ah ecco sempre per la moda avremo anche il reparto bellezza con le creme più importanti per rimanere bianche come biancaneve non vorrete certo prendere il sole e diventare come delle sguattere tutte quelle rosse lì non si fa state attente l'intervista la nostra marchesina si svela e vi racconta la sua vita i suoi sogni ecco e per finire la rubrica di viaggi con Catherine Morland visitare le abazie istruzioni per l'uso fantastico e non aprire le casse soprattutto questo è solo il primo numero lo trovate su Patreon potrete avere il link domani ve lo ripeto di nuovo è un abbonamento mensile stiamo già lavorando al secondo numero quindi attente che arriva altra roba e che roba vogliamo un'altra ricetta quello scuro sicuramente ne arriveranno tante se le facerle state tranquilli sono tutte fantastiche perfetto bene siete divertiti sono quasi le 10 io direi che per stasera abbiamo un piccolo sulle fanciulle che fanno cose non ce la possiamo fare no non ce la possiamo fare stasera no stasera no stasera no comunque vi assicuriamo che questo delipio è stata dura metterlo insieme perché la parte la parte grafica con l'intelligenza artificiale è tutta opera di Federica abbiamo lavorato un po' insieme sui dialoghi a parte che ci siamo trovate che l'idea sui personaggi nascevano in concomitanza di come se fossimo un unico polle cervello una cosa disgustosa non è normale questo veramente povero Ambrod sì sì bene veramente molto bene e vedrete delle cose terribili ma anche quello che stiamo combinando noi con queste live sono delle cose terribili stiamo raccontando di gente pazza di gente che io non lo so voi cosa ne pensate però vi stiamo dando uno spaccato dell'ottocento che a un certo punto voi vi starete chiedendo ma io perché sto cominciando a chiedermelo ogni tanto mi guardo le specchie e mi dico ma io perché niente non fatevi questa domanda perché Bedlam potrebbe aprirsi di nuovo le porte si aprono cigolando anzi no perché adesso è tutto neoclassico Bedlam è vero sì questa scultura nel mezzo bianco sì no 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 se ti accogliente un motivo c'è poi pensa ti metto in un posto di un cello di isolamento e comincio a pensare sì sono da sola non c'è più nessuno che mi dice mamma 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 e il cane bau 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 e tu dici sì però sarebbe bello una giornata di assoluto silenzio quasi quasi mi faccio ricoverare quindi no è pericoloso richiudiamo le porte di Bedlam perché dobbiamo andare avanti con i nostri scritti e vogliamo la seconda parte del tempio quindi non facciamoci attirare dalle sirene incantevoli delle celle di isolamento perché è finita se no diciamo queste cose tutti i nostri lettori lettori e ascoltatori stanno ridendo come dei pazzi sì ma è giusto così perché lo dovremmo chiamare non il salotto di Miss Darcy ma lo zoo di Miss Darcy sarebbe praticamente la stessa cosa perché purtroppo entrando nel mondo dell'ottocento abbiamo a che fare con dei personaggi realmente esistiti che sono molto più folli dei personaggi che inventiamo motivo per cui vi raccontiamo cose che sono realmente accadute per farvi capire che il mondo dell'ottocento era un mondo straordinario la gente sperimentava amava sperimentare ci siamo afflosciati non siamo degni discendenti della razza dell'ottocento non siamo degni discendenti dei nostri bisnonni dei nostri trisnonni dobbiamo muoverci incominciamo a viaggiare dimostriamo anche noi che siamo avventurieri sa prendiamo un traghetto o un vaporetto guardi quello che sta succedendo in giro adesso dovremmo chiudere la diretta e tenere queste considerazioni fuori io ascolto e guardo tiktok e a volte mi spavento a volte mi spavento seriamente di quello che c'è per quello che dicono e per il contrario di quello che dicono non può esserci un mondo così dieci anni fa ho visto la prima volta l'intelligenza artificiale che era in funzione e adesso la vedo la vedo e è molto spaventosa sì entro cinque o sei anni tutti i creatori di i famosi content writer gli autori i i creatori di contenuti mentali saranno superati sì e cosa resterà di noi domanda che voglia avremo di leggerli dipende da quello che decideremo di fare del nostro futuro ma noi sai ormai siamo a una soglia di età in cui ci preoccupiamo poco di questa situazione saranno i nostri nipoti più che altro i nostri tuoi figli mio nipote a dover affrontare questa cosa e la cosa mi spaventa un po' perché non hanno alle spalle l'era analogica che abbiamo avuto noi loro sono nati nell'era digitale e nell'era informatica mentre noi discendiamo ancora siamo passate attraverso l'epoca in cui giocavamo con il secchiello e la paletta e le biglie sulla spiaggia e non avevamo ancora un'idea futuristica di quello che sarebbe stato i nostri 50 anni io sinceramente da piccolina volevo diventare astronauta volevo andare sulla luna poi giustamente non avendo le capacità di Samantha Cristoforetti che invidio e ammiro tantissimo come potete vedere sono nella cantina di casa mia perché al mio spalle avete un falso schermo quindi sono in cantina e al mio spalle ci sono i panni da stirare perché è un destino che poi ognuno di noi sceglie però ho voluto comunque ribellarmi allo stato sociale in cui mi trovavo ho cercato in tutti i modi di ribellarmi e di crearmi qualcosa che mi desse soddisfazione ma oltre a questo oltre al uso di un computer e di una condivisione tecnologica che è quella che stiamo utilizzando adesso quindi la utilizziamo però con la coscienza di essere nati in un'area analogica quindi apprezzando il fatto di poter condividere con la possibilità di poter condividere questa diretta con il mondo intero chiunque si può collegare a questa diretta in Nuova Zelanda in Sud America in Alaska se ha una connessione internet o in Russia chiunque si può collegare a questa diretta e questa cosa io l'ho sognata tanto quando ero piccola e sono contenta di esserci per poter averla vista però quello che faranno il futuro veramente della tecnologia saranno appunto i nostri discendenti e allora probabilmente per loro la scelta sarà molto semplice o fare o succedere o succederà quello che è successo in Dune che a un certo punto Dune inizia quando la tecnologia è stata spazzata via quindi è diventata illegale e tutti i pianeti si muovevano in maniera analogica anche i trasporti funzionavano in maniera analogica attraverso la spezia che permetteva a una determinata razza aliena di trasportare le astronavi senza farle viaggiare e quindi i navigatori della gilda e quindi tutto il mondo è analogico ed è il futuro che probabilmente nel 3000 avremo ma prima dobbiamo passare attraverso questa fase esperienziale dell'umanità che è quella tecnologica che fa paura fa paura a noi perché noi appunto arriviamo da un'era analogica sappiamo come era prima del computer e sappiamo probabilmente come andrà a finire che un bel giorno il computer non esisterà più perché ci spaventeremo siamo quelli che andavano a vedere Terminator al cinema e per quello noi continuiamo ad avere paura di Skynet e continueremo ad avere paura di Skynet fino alla fine perché la paura l'abbiamo presa una volta al cinema la mano che continuava ad andare avanti purtroppo c'è molto un Terminator per ammazzare un Terminator quindi possiamo solo sperare che la tecnologia un giorno si fermi o si fermi c'è anche la versione Star Trek c'è anche la versione Star Trek che è quella esplorativa esatto che in tutte le sue forme in tutto in tutti i modi in cui si è evoluta questa forma di tecnologia e appunto il contatto con nuove civiltà che riprende poi la fine quella delle colonie del 1400 quando è stata scoperta l'America però lì c'è una guida una guida già pronta e già e lì e vabbè però sappiamo che il Capitano Kier ogni tanto non seguiva le regole quindi il Capitano Kier non seguiva le regole perché sappiamo che lui aveva degli ormoni un po' alterati il mio preferito era sempre Saru a me l'ultima serie che hanno fatto la penultima perché poi l'ultima è stata quella su Picard non ho non ce l'ho fatta guardarla devo dire no ho visto due serie e poi ho abbandonato perché la mia è la gente clonata dopo un po' stufa è stata anche molto 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 lenta quindi la terza serie mi sta passando davanti ma io non la guardo proprio no mi ha stufato e quindi non ce la facevo a vedere morire in persona cioè io sono rimasta scioccata per dei mesi quando hanno fatto Star Trek quello che veniva prima Enterprise Enterprise mi ha scioccata tanto la morte all'ultima puntata di Trip quel giorno esatto esatto sono rimasta per dei giorni a piangere anch'io nobile a dire ma perché ma perché non era necessario no infatti non era necessario per la storia eppure sì perché poi la vulcaniana sposa il comandante se non sbaglio per quello era necessaria la morte di Trip era una roba così insomma so che poi la vulcaniana se lo sposa il capitano si sposa il capitano se non ricordo male c'è qualcuno in linea che sa se finisce diversamente ma che io sappia lei sposava poi il comandante per questo hanno fatto morire Trip che è veramente un finale bastardo siete bastardi è l'ultima puntata per senza un motivo cioè lo fai morire eroicamente no vede uno che è cattivo e allora li uccide eh sì sì no no cioè tra l'altro la mia serie preferita tra l'altro sono tutte le serie di Star Trek quella che ogni tanto mi riguardo proprio perché è proprio agli origini del viaggio verso l'esplorazione verso le stelle ed era tutto ancora molto nuovo molto sì non hanno la il tricolo è come il trasporto sì il trasporto è che se sbagliavi però non è rotto cioè intanto se sbagliavi a maneggiare il trasporto ti avevi la polpetta no ma poi la cosa che mi ha fatto ridere quando hanno fatto poi i film che c'è il Scott che dice che è stato cacciato in quella colonia infame dove c'è un freddo da pio sai che vanno a prendere la Scott no nel primo film lo vanno a pigliare in una colonia dove tipo siberiano un freddo ma io l'hanno mandato là ma perché sei qui e perché ho fatto un esperimento la prima volta con con il trasporto il beagle del capitano arcer e non è tornato indietro sai che arcer ha sempre i beagle è vero sì ho messo il beagle del capitano arcer no del colonnello arcer quindi era uno di andato avanti andato avanti per un bel po' sto tornando dei beagle com'è che si chiamava Atos Atos si chiamava Atos sì vabbè che memoria non mi ricordo cosa ho mangiato per cena ma mi ricordo il nome del cane del capitano va bene a posto così non è Spock perché infatti io all'inizio ho detto ma sarà mica la mamma di Spock poi ho pensato no non può essere la mamma di Spock perché Spock è la madre umana e il padre è Sarum non me lo ricordo allora il padre di Spock si chiama Sarum Saruk ha un nome del genere quindi la vulcaniana non è la madre di Spock no no non è sua madre ci siamo compantanate va bene ma qualcuno ti risponde no ci è rimasto salutazione a seguire i nostri deliri va bene ragazzi andiamo a vederci Wikipedia e domani lo sapremo sì va bene comunque adesso noi vi salutiamo grazie per essere state con noi non guarda non guardare il folletto stasera siamo più deliranti del solito stasera siamo più deliranti del solito quindi vi lasciamo con questo zoo del salotto di Misdarsi grazie per averci seguito fino a che avete potuto prima di impazzire e di averci abbandonato e ci vediamo alla prossima diretta sì forse io sabato prossimo non sarò presente perché abbiamo degli eventi familiari da seguire quindi ci sarà un po' di a guaglio a guaglio a guaglio a guaglio va bene così e niente ne approfitto per ricordarvi se non lo sapete perché siete sul gruppo Regency che è lunedì sera faccio un'altra diretta sul gruppo Milos quindi se volete venire a delirare dalla parte di là sappiate che io proseguo con i miei deliri insieme a Ilaria Caserini e insieme a Alessandro Del Gaudio quindi parleremo sì anche di fantascienza parleremo di tante cose anche di famiglie problematiche come appunto ha raccontato Ilaria e sarà una diretta un po' sul salone del libro quindi diciamo che il fil rouge è proprio quello lo stato insomma tastiamo un po' il polso in base alle nostre esperienze sul salone del libro un po' come è andata un po' da autori e un po' da ospiti basta io ho finito con i miei deliri e quindi vi aspetto lunedì sera se volete di nuovo su Streamyard a parlare di cose poco concrete che sono appunto quelle che scriviamo buonanotte buonanotte a tutti noi vi salutiamo e concludo trasmissione alla prossima puntata ciao ciao uno e concludi trasmissione due ciao